Signore e signori, l'immaginazione diventa realtà. Si è convinto che esistono scherzi della natura dotati di potioni speciali? E di un regalo per Hitler? Un pugno di superuomini con lui al comando? Io come faccio senza sete? A non ci separa nessuno, manco la guerra. Io non ammazzo nessuno. Ha guerra e guerra. Falli fruttare, sti poteri. Il mio non è un dono. È una maledizione. Benvenuti. Tu sei un dono. Tu sei un dono.